L'innovazione nell'automotive ormai si concentra soprattutto su due aspetti, i consumi e la sostenibilità. E per abbassare le emissioni senza intaccare troppo le prestazioni, si sta puntando molto sull'ibrido. Un discorso valido anche per la coreana Kia, che continua a crescere in Italia e lo sta facendo con occhio al green. È per questo che è nata Kia Niro, il crossover compatto ibrido. Ma cosa vuol dire? Sulla Kia Niro abbiamo un motore benzina 1.6 iniezione diretta da 141 cavalli ed un motore elettrico da 43,5 cavalli. I due motori agiscono contemporaneamente o in maniera a seconda delle condizioni. Il vantaggio di un motore ibrido è quello che si riducono fortemente gli sprechi e ciò consente appunto di avere bassi consumi e basse emissioni. Quando i due motori entrano in azione? Il motore elettrico si ricarica in movimento, nella fase di rallentamento e di frenata l'energia cinetica viene trasformata e immagazzinata nelle batterie che su Kia Niro si trovano sotto i sedili posteriori. Di solito le auto ibride hanno sempre rappresentato il massimo della tecnologia nelle basse emissioni e nei consumi. Con Niro Kia ha realizzato un'auto accattivante. Solitamente siamo abituati a vedere auto ibride molto efficienti ma forse esteticamente dal punto di vista del design non molto accattivanti. Con Kia Niro diciamo che questo principio viene un po' sovvertito e di fatti troviamo una vettura estremamente accattivante dal punto di vista del design. Una vettura dal design accattivante ma anche una vettura molto comoda e confortevole. Kia Niro è a disposizione di tutti questo weekend nella concessionaria Megamotors. Noi vi aspettiamo il prossimo sabato e domenica per provare Kia Niro, per ricevere tutte le informazioni sia di prodotto che commerciali sulla nuova autovettura di casa Kia. Noi viandersi pensando in casa What's up Anitecto che tra nella dimensioni che fa этот mattare non era messo convit buscando ilBM Ibrideос, in luglio びco perché su cui osservi ci si pensavo나 voi ma anche giocare regione!!!